Buonasera, buonasera a tutti. Perché? Perché da quando ho iniziato Gomorra, se vado in giro e dico che sono di Napoli, la gente non mi crede, forse perché in Italia ci vedono tutti come nella fiction? Può essere, a me è capitato. Quindi, se ho capito bene, tu sei di Gomorra? Sì, Gomorra centro. Ma sai, non l'avremmo detto. C'hai anche la giacca, non c'è neanche un orecchino. E vabbè, c'è il piercing sulla lingua, mica posso cambiare così perché tu non mi credi, scusami. Ma vabbè, ma dimmi un po', ma è trafficata, eh? Abbiamo fatto anche Gomorra, vabbè, l'Ox. Se superi che ho 100 grammi di droga, ti fanno la fotografia e si ritirano la patente. Certo che è da perfezionare. Ieri è passato a Nino in panettiere con due chili di farina, c'hanno l'ateria, c'hanno, sta con mio pazzo. Però è ancora da perfezionare. Sì, vabbè, immagino da te una rapina ogni 10 minuti. Le rapine è succedono dappertutto, anche da noi. La più concentrata su questo fatto è mia nonna. Io l'ho beccata in bagno che debbeva il reggisino di soldi. Ho detto, nonno, ma che stai facendo? Ha detto, nonna, se proprio mi hanno fatto una rapina, mi ha già divertito i puristi. No, non mi trovo. Hai ragione. Sì, vabbè. Vogliamo, per non parlare che siete i maestri della contraffazione. Una volta. Adesso stanno loro, i cinesi. I cinesi ci hanno copiato tutto. Borse uguali, scarpe uguali, cinte uguali, pantaloni uguali, giacca uguali. Ieri sono entrato in un negozio cinese. Quando sono usciti, steve uno uguale a me. Bravissima. L'allate fanno, velocissima. Non perdono proprio dire. Sì. Adesso fammi credere pure che denunciate. Una volta è capitato. Ho denunciato proprio un cinese. Sono andato in questione e ho detto, Brigadier, voglio denunciare un cinese per contraffazione. Ma guardate, ho detto, bene, me lo descriva. Ah. Occhio a mandorla, capelli neri, pelle giallina, magro. Ha questa descrizione partitegno, mori con sottofondo. Na 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 na. Ho visto la difficoltà dei suoi occhi. Con un guisto d'orgoglio, ma guardate, ha detto, aspetta, devo chiamare maresciallo. È arrivato maresciallo, ha detto, dimmi un po' quanti anni aveva. Maresciallo, 30 anni. Ha detto, guardami bene. Noi ieri ne abbiamo preso uno, teneva 20 anni. La descrizione corrisponde. se aspettano i cianni, io tu. E basta, io si pregiudizio.